Ecco la pizza del sabato sera Facciamo che tutti i giorni è sabato? Sarebbe bello! Lievito, farina 00, acqua, miele, sale e un goccino d'olio Copriamo e lasciamo riposare per 12 ore in frigorifero con un panno umido Infariniamo il piano di lavoro con la semola, dividiamo in piccoli panetti, lasciamo riposare un'oretta e siamo pronti! Pomodoro! Inforniamo a temperatura massima, ultimi due minuti la mozzarella e buon appetito!